Ciao ragazze bentornate sul mio canale il video di oggi è appunto la recensione di questa tinta vegetale dell'HD nella colorazione è la dark brown quindi castano scuro è la più scura, dopo questa c'è soltanto quella nera quindi insomma per chi vuole ottenere un castano scuro questa va più che bene allora cominciamo a parlare del marchio HD allora del marchio HD questo è il terzo prodotto che provo e devo dire che è una marca veramente ottima ottima veramente come vedete appunto è certificata e allora all'interno dove? contiene quindi i suoi ingredienti sono l'indigo quindi quello che volgarmente chiamiamo il nero comunque l'indigo l'ennè quindi la losone Nermis che c'è di colore i capelli di rosso l'hamla il bringaragi penso che si pronuncia così e il neem o il neem insomma vedete eccolo scritto qui fatto in India sono 100 ml e adesso dentro è vuoto perché l'ho appunto fatta questo è il risultato allora all'interno c'è appunto il sacchettino con la polvere che dovete voi andare a miscelare con dell'acqua calda e se volete potete aggiungere altre cose ad esempio tè nero o altri magari infusi ma addirittura anche c'è che aggiunge miele e yogurt quindi insomma mettete quello che volete io ho messo semplicemente dell'acqua calda non bollente da rubinetto ho aperto l'acqua calda e l'ho miscelata insieme alla polvere allora Carrie consiglia di tenerla in posa dai 30 minuti alle 2 ore ma so di ragazze che le tengono anche 3-4 ore insomma tenete un po' voi quanto volete io ho fatto stare un'ora e ovviamente vi voglio raccontare un pochino cosa era successo ai miei capelli praticamente da due anni a questa parte per un anno ho fatto sempre le tinte chimiche di colore rosso poi mi ero appunto stancata ho deciso di comunque coprire rosso con un castano scuro appunto quindi cercare di tornare al mio colore naturale di capelli che diciamo si è vicina a questo una volta tipo quando avevo 13 anni era un castano un castano normale un castano chiaro che poi ovviamente si è trasformato in un castano più scuro quindi volevo appunto coprire questi capelli rossi ma ovviamente loro spuntavano sempre fuori e quindi un po' di tempo fa ho iniziato a fare queste tinte castane chimiche però mi sono resa conto no? ho detto ma se io utilizzo sui miei prodotti capelli più o meno eco bio comunque con l'inci accettabile è inutile che mi faccia le tinte perché manda all'aria tutto tutto insomma è inutile che vado poi a utilizzare la casse perché comunque i capelli sono trattati chimicamente è inutile che vado a utilizzare shampoo maschere oli eccetera allora ho deciso di buttarmi su questa tinta qui dell'HD vi dico subito l'ho pagata 7 euro e l'ho scusate e l'ho presa nella bio profumeria della mia città e allora ho letto a delle ragazze che dicevano che hanno seccato un po' i capelli quindi appunto aggiungevano delle altri ingredienti come il miele oppure lo yogurt io devo dirvi la verità non ho notato questo sarà perché io ho comunque fatto lo shampoo e la maschera dopo quindi sarà forse per quello però ho i capelli veramente morbidissimi liscissimi nel senso sono veramente morbidi e mi piacciono tanto 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 e allora vi dico un po' come l'ho utilizzata allora pensavo inizialmente di utilizzarla tutta perché dico come una normale tinta io la utilizzo tutta anche magari a volte mi serve anche un'altra un'altra tinta perché comunque i capelli non sono corti sono abbastanza lunghi e quindi ho detto la uso tutta invece quando l'ho aperta mi sono resa conto che era veramente tantissima polvere allora forse non so avevo paura un po' che magari di uscire fuori con i capelli neri allora ho detto ne uso una metà un po' più di una metà non un tre quarti ma poco più della metà e appunto ho preso una ciotolina ho versato la polvere ho aggiunto un po' di acqua calda un po' per volta e ho mischiato però prima mi ero andata a fare la doccia e ho lavato i capelli solamente con lo shampoo senza aggiungere balsamo, creme eccetera questa tinta va applicata quando i capelli sono ancora caldi quindi prima di me di applicarla vado a sciacquare un po' i capelli con l'acqua calda vado ad applicarla l'ho applicata semplicemente con dei guanti senza pennelli senza niente e l'ho fatta stare su appunto un'ora poi sono riandata in doccia ho sciacquato la tinta ho fatto lo shampoo io ho fatto la maschera sono venuta fuori ho asciugato i capelli e questo è appunto il risultato allora con queste luci di merda i capelli sembrano quasi neri ma vi assicuro che non lo sono per niente allora i capelli bianchi che avevo qua davanti ancora non è che si vedono li ha coperti ma non di castano scuro cioè sono più chiari ma non sono bianchi quindi già è una buona cosa dicevo dalla luce naturale magari vi metto una foto alla fine del video insomma della differenza del prima e il dopo avevo appunto questi riflessi rossi e li andate un po' a smorzare perché comunque l'indigo che appunto il colore nero ha agito sul rosso e così anche l'ambla che appunto serve per scurire i riflessi e quindi io non mi lamento anzi mi sono trovata bene quindi se state cercando una tinta vegetale io vi consiglio sicuramente questa qui della Carie e niente ragazzi spero che abbiate insomma trovato utile questa questa mia recensione e io vi saluto vi mando un bacio e ci vediamo nel prossimo video ciao